L'attrice è ormai pronta per una svolta lavorativa. Rosalinda, infatti, potrebbe a breve iniziare una nuova carriera nel mondo della musica. Conosciamo le sue abilità nel canto, già da quando era all'interno della casa del grande fratello. Ci aveva infatti stupito con la sua interpretazione del brano Sincerità, brano scritto da Giuseppe Anastasi e interpretato da Arisa, nell'edizione del Festival di Sanremo del 2009. I compagni l'avevano spronata ad intraprendere questa carriera e infatti da poche ore ha fatto sapere che sta per prendere parte alla sua prima lezione. Si sta creando un'incredibile opportunità per l'ex Geffina che se tutto va bene a breve darà una svolta alla sua vita. Forse in pochi sanno che in passato la Cannavo aveva già inciso una canzone, ovvero il pezzo intitolato 666. Se volete sentire il brano potete trovarlo in vari canali su YouTube. In una recente intervista Rosalinda aveva anche espresso il forte desiderio di partecipare a Sanremo. Ora, a noi, non resta che attendere ed osservare il nuovo cammino della Cannavo per vedere fino a dove riuscirà ad arrivare. Secondo voi, la vedremo al prossimo Festival di Sanremo? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.